Benvenuti al villaggio di Natale Panicari Ambienti. Oggi parliamo della LEMAX, una delle attrattive del nostro villaggio di Natale. Chi ci conosce è da tanti anni che abbiamo questa azienda e si tratta di mini villaggi di Natale. I prodotti LEMAX sono delle casette fatte per lo più in ceramica con oggetti luminosi e in movimento dove è possibile costruire, ricostruire diciamo quello che è un paese in festa. Magari non il Natale tradizionale legato alla Natività, cose che abbiamo ugualmente nel nostro villaggio di Natale, ma LEMAX invece si caratterizza soprattutto come il paese in festa, quindi non possono mancare autoscontri, casette particolari sempre in ceramica, piste da sci e tanti altri tipi di oggetti simpatici che si possono abbinare in questo stupendo villaggio di Natale. La maggior parte di questi oggetti hanno due caratteristiche principali, una è il movimento e l'altra è che si illuminano anche, quindi diciamo spegnendo le luci nella propria abitazione o nel proprio locale creano un'atmosfera veramente carina. La cosa particolare è che uno può creare il proprio villaggio di Natale in qualsiasi ambiente oppure utilizzare un qualsiasi oggetto di recupero che magari a casa una vecchia valigia, un vecchio cesto, una vecchia damigiana e costruirci all'interno il proprio villaggetto di Natale. Una volta che si individua diciamo il tema si vanno a scegliere tutta una serie di complementi per questa casa che si possono inserire per questo villaggio come ad esempio la panchina, l'alberello illuminato, il lampione, la bicicletta, poi invece si può costruire un qualcosa di più complesso come può essere la pista da sci con la funivia e qui tutta una serie di prodotti che vanno dagli sciatori a chi va in snowboard, al pupazzo di neve, all'omino di neve, ecco sempre gli alberi innevati e poi ci sono molto simpatiche anche tutte le basi da mettere per poter alzare in base alle proporzioni e alle dimensioni delle case le varie tipologie di prodotti. Infine si può costruire anche un paese in festa come villaggio di Natale semplicemente anche senza tener conto dell'aspetto neve, quindi si può giocare con le varie tipologie di sabbia, abbiamo tutti i sentieri, abbiamo le recinzioni, abbiamo gli alberi non innevati, le lucine da mettere tra un albero e l'altro, ecco questo diciamo è il mondo LEMAX, un mondo che ha tanti appassionati, grandi e piccoli, io stesso sono un appassionato quindi ecco mi piace spiegarle bene nei dettagli queste cose qui, poi se ci venite a trovare ve le facciamo vedere anche meglio. Non mi resta che aspettarvi qui nel nostro villaggio di Natale, noi siamo a Fano e siamo aperti tutti i giorni, compresa anche la domenica mattina e pomeriggio e oltre al nostro villaggio LEMAX potete trovare tantissime altre tipologie di prodotti per il vostro Natale e per i vostri regali.